tra i ragazzi di brusso di quando fu giovane dopo che sei sposato si è riconosciuto per il bello se sta a conti si è riconosciuto a giocare a perdusche quando puoi vedere ma quando fu picciocca e dopo che sei sposata si, poi ho lavorato si è riconosciuto per il bello si è riconosciuto e non si è riconosciuto tanto si è riconosciuto a giocare a perdusche io non ho visto che è riconosciuto